Benvenuti su Non Solo Photoshop, oggi vediamo come illuminare noi stessi con una piccola fonte di luce utilizzata come luce principale per i nostri vlog, per le nostre videoconferenze, per i nostri video dove vogliamo ottenere un effetto di qualità, una luce di qualità che faccia la differenza. Ve lo voglio mostrare, è veramente un gioiellino, sono quelli illuminatori a led che adesso stanno cominciando a impazzare e che hanno tante funzioni, oltre ad essere molto potenti, piccoli e portatili, hanno la possibilità di essere caricati quindi con gli stessi caricatori che usiamo per i telefoni, riusciamo ad avere energia per andare avanti un bel po'. Quindi cosa farò? Attaccherò a uno semplice stick, attaccato anch'esso a un cavalletto, su un cavallettino questo per poter naturalmente mantenere ferma la luce, leggermente inclinata verso il basso vado ad accendere e cerco di trovare un livello di luminosità che vada bene naturalmente per questa situazione magari alziamo un pochettino prima spengo la luce che c'è adesso e inizio a usare questa qua ecco che adesso è posizionata di fronte a me, questa che si chiama in fotografia e anche in videografia luce a farfalla, è quella che piove dal lato direttamente frontale al soggetto e che genera una piccola ombrettina sotto il naso che dà il nome a questo tipo di illuminazione naturalmente deve piacere oppure deve interessare a quello tipo di illuminazione che è abbastanza uniforme che tanti utilizzano. Per vedere invece come cambiano le cose proviamo a spostare e a utilizzare una illuminazione a tre quarti, quella che dà maggiore tridimensionalità al soggetto eccoci qua con un taglio di luce diverso, quindi luce a tre quarti e lo vediamo perché la parte più luminosa del viso è da questa parte quindi la fonte principale è sul mio lato sinistro e cominciamo a vedere ombre che si generano dalla parte opposta può non piacere magari vedere quest'ombra forse un pochino pesante e si può ammorbidire mettendo da questa parte sul lato opposto anche soltanto un cartoncino bianco, un foglio di polistirolo che rimbalzi e che attende un po' la luce ma l'importante è che si riesca a capire come cambiano le cose spostando è a distanza di un braccio circa e la potenza, l'intensità della luce sarà intorno al 30% vediamo già com'è la differenza rispetto alla luce farfalla che abbiamo ottenuto prima adesso per un terzo taglio di luce vado a spostare ulteriormente e proverò a vedere cosa succede con una luce completamente laterale magari per creare un'atmosfera particolare, per raccontare qualche cosa di particolare che richiede una luce maggiormente d'atmosfera eccoci qui con la luce laterale, il bello di questa luce, il bello naturalmente se piace è di avere il viso metà illuminato e metà spento metà in ombra, qualcosa si vede comunque non è completamente al buio, ci sono altre luci, quindi un po' di riempimento c'è può essere un modo per ottenere qualcosa di particolare, magari se spengo ulteriormente la seconda luce che c'è qua potrei ottenere un'atmosfera ancora maggiore, possiamo anche vedere che cosa succede ecco cambia che manca riempimento in questa zona che è posizionata dall'altra luce quindi tornando a illuminarmi con una luce un po' più normale ma non è detto che debba essere per forza utilizzata in questo modo con quella stessa luce si sono ottenuti tre tagli diversi con effetti diversi il riempimento è fatto con semplici lampadine colorate, quindi un costo di pochi euro che può fare la differenza su ciò che abbiamo dietro, abbiamo di fianco, su ciò che abbiamo l'ambientazione in cui ci troviamo e se andiamo a vedere in dettaglio senza perderci troppo in chiacchiere abbiamo un pulsante di accensione che naturalmente ci permetterà di vedere un display dove possiamo regolare certe cose dicevo la possibilità di regolare intanto la temperatura colore, quindi quella funzione che modifica il colore della luce quindi possiamo passare da luce calda a luce fredda e illuminare i nostri soggetti, i nostri video per ottenere risultati di qualità come colorazione della luce, quindi impostando in macchina il bilanciamento del bianco per esempio su luce solare andremo a impostare nell'illuminatore la stessa intensità di colore quindi 5600 gradi Kelvin che vediamo nel display allo stesso modo possiamo regolare l'intensità, quindi passare da un'intensità più debole del 10 per 5% addirittura e a salire con il potenzialometro possiamo regolare la sua forza per naturalmente illuminare al meglio questo è un vantaggio, un grosso vantaggio perché se abbiamo la luce più vicina a noi potremmo avere la necessità di abbassare oltre al fatto che può dare parecchio fastidio non ultima la possibilità di far durare di più la batteria quindi più abbassiamo il livello di intensità maggiore sarà la durata della batteria e lo vediamo anche nel simbolino che è nel piccolo display sul fianco ci sono i due potenziometri che servono a regolare i due parametri adesso sono su luce fredda e posiziono sul bilanciamento del bianco sono su luce fredda e vado a posizionare su 5600 per avere la stessa luce impostata in macchina regolo l'intensità e poi possiamo dare un'occhiettina un attimo a peraltro con il santino che si trova qua denomato set per selezionare vari effetti di luce pre-impostati questi magari vanno bene per certi riprese video che hanno altre esigenze e non quella del nostro video log due accessori molto importanti e molto interessanti sono dei modificatori dei luci quindi ci ritroviamo con il classico opalino che serve a rendere la luce più morbida e una volta inserito è un silicone quindi ci si giostra bene per inserirlo avremo una resa molto più morbida della luce con la proiezione delle ombre non troppo pesante questa invece è la classica indodate che serve a concentrare parzialmente la luce e a creare una specie di cono non troppo concentrato ora se questa luce la utilizziamo naturalmente di fronte a noi dobbiamo trovare la soluzione migliore per illuminarci per ottenere i risultati di qualità di cui stavo parlando a chi interessa in descrizione trovate i link alla small rig che produce questo tipo di illuminatore oltre a quello ci sono i link comunque al mio canale dove ci sono 580 video al momento già pronti per il vostro piacere e naturalmente il vostro like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora da fare grazie per l'attenzione ci vediamo alla prossima grazie grazie grazie